La tigre del farweb che gioca a Minecraft, con qua il volume che c'è, Luke, 43, 16 Ok, allora, cosa facciamo in questo episodio, Luke? Questo ragazzi fa capire quanto la gente mi ascolti Bene, allora, in questo episodio apriremo le safari net Che non ci siamo dimenticati nel episodio scorso Ma chi l'ha guardato tutto avrà sentito quando ho detto Le apriremo nel prossimo episodio Siccome la gente non guarda tutti i video E a mezzo video inizia a commentare Perché ci sono gli animali sotto il... Ti è baccata la mucca Mucca? Lu, aspetta, ti sto passando anche le mie due sofferenette Dai, è un po' incinto Oh, poverina Ok, perfetto, perfetto No, non c'è la pangiale, dai Uy, la che cazzo stai dicendo Lo sai che hai detto? No, no, no Quella, ripeti per piacere Raga, ha letto, ha letto e spavano i mobili Veloci, 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 veloci Via, via, via Ognuna casa sua Ah, vedo le casette Ah, mitico No, 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 ci sono mostri alle vicinanze Non ci fa dormire Quella è casa mia, mitico Non ci fa dormire Questa è casa mia Guarda il cartello Mi, mi chiamo a ragazzi Mamma mia, pure per il tira per le porte Sì Dormire Dormire Non mi fa dormire, ci sono mostri E prendete il letto e andate nella casetta Andiamo da un'altra parte Ho letto Sì, ma entro stamattina però Questo è caricato Ok, tia Ancora uno, ancora uno Uno Ce ne manca uno, ragazzi Eccomi, eccomi, eccomi E non posso dormire Vi ricordo Non mi fa dormire Che Eh Che dove è questo? Non mi ricordo Che ecco Oh, le Vabbè, basta Ok, ok, ok Ora Tutti allontanatevi Perché si spavano un creeper o qualcosa del genere Pronti con le armi Ma pronti a non far esplodere Eh, c'è un piccone in mano E non ho paura di usarlo Eh, io non c'ho un cavolo Vado Vado Sì Vada Vai Vada Vai Io vorrei sapere chi lascia le foglie Vabbè Andiamo È l'albero Vado Vado 3, 2, 1 Via Oh, la piccola Vado 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 Oh GG Olè 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 scoppia tutto non mi interessa allontanati allontanati maiale maiale vai mucca mucchina pollo ti devi togliere willa se lascia un creeper scoppia cazzo ma tu per farti capire le cose a te cazzo non parlare in ugloslavo vado madonna ragazzi io so che l'ultima è la più figlia di serano ce ne ho altri due io lui un ender dragon guarda oh ti toglie un papera di merda e due dopo mi apri due zainetti però ci vogliono le papere ma in quanto mancano la mucchina la macchina la mattina io immaginavo che c'era un creeper in mezzo a tutti di merda star di griglia gesto giusto l'ultimo come avevi detto tu è però ragazzi questi due tipi di mucche si possono accoppiare e cioè l'era ce so io però no ma non non necessariamente come non ok allora ho trovato due cose di spaghetti che facciamo delle scalette che facciamo allora dobbiamo continuare le quest per cui ma che c'è stata la mucca ma stanno tutte malissimo ste mucche no perché sto cosa è fatto di mini blocchi sto coso verde e fa schifo per cambiarlo no paura di cade giù la mucca va beh comunque continuiamo con le quest e le facciamo andiamo a fare quella dell'auto smeltaggio però no potremmo fare anche questa potremmo fare anche l'auto braver vediamo qual è potremmo fare quella dei funghi potremmo farne un po ragazzi se ci vediamo guilla deve continuare a fare diamanti per completare quella it automatic ragazzi allora dobbiamo fare in poche parole l'acqua e usi iniziamo a fare l'acqua no ci manca un sacco di no moon si è andato a guardare i suoi episodi ha smeltato tutto l'altro giorno sì ora io non so chi ha messo il liquido nero però questo qua ci fai mattoncini 4 per mentale dove è quello è dentro la cesta ragazzi quali c'è la prima sopra qua dei minerali abbiamo del ferro abbiamo un po di roba per cui ci serve l'oro che non abbiamo ragazzi niente non taglieremo il video e ci metteremo qua a smeltare e cercare un bel po di materiali eri eccoci qua abbiamo trovato un bel po di roba facciamo vedere se xander non cammina sulle ceste abbiamo due diamanti due emerald e non mi ricordo l'oro se anche non serve ci serve pure l'imbar per fare il tutto è per fare per fare per fare l'autonomous che si fa in questo modo eccolo qua che è quello più costoso due andati due spacchi due spallafi non abbiamo red sono ragazzi per cui niente polverizzate un po di dust vai raga polverizzate la dust questo è xander o è sempre lui che viene dentro non fa entrare niente mi viene dentro ma non abbiamo 48 pezzi ma rimetto tra abbiamo legno ma li avete bloccato ma ce la fate oggi l'olio totale 9 48 mila miliardi di legno adesso abbiamo cobblestone ok riegola ribelli si la faccia abbia basta con la tasto non si è questo e polvere mi serve la mandra perché mi arrivano fermi da me la dame la dame la dame la dame la dame la scuola dame la dame la dame la dame la dame la messa dentro la gioia per evitare da me l'ho messa dentro l'acqua è certo cipolo ok raga vetro vetro e l'ho già messo a cuocere raga e se vi dico cosa serve mi vede da piangere in giapponese secondo voi avanti a parte che siete dei pirli a me mi sto dando l'impossibile ragazzi i ragazzi dica dica ho tutto che mi servono due in bar in bar allora cos'era due ferri quattro ferri era era un nickel e due ferri a nickel 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 abbiamo nickel 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 nice abbiamo un sacco di nickel abbiamo la 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 che l'abbiamo abbiamo anche la polvere di nickel se serve cioè la polvere di nickel infatti devo cuocerla oddio allora cuociamo la nickel e la di che dovrebbe essere il ferro il ferro usa contatto con il ferro ci farà lingua che magari ma che ho studiato macologia vabbè allora intanto ragazzi io intanto facendo il coso voi potete craftare l'altro che serve noi possiamo fare la acqua e usare un vacuum ma che è facile farlo dai io faccio io faccio l'acqua il fatto che fai tu il baco un l'acqua e cus l'acqua e qua quasi finito dai ora ok come avete fatto l'ossidiana andai non abbiamo ancora fatto allora di una volta perché lo parla io e facciamolo sia ma dobbiamo fare il bar nel ok allora e l'altra c'è ora la slab sotto tutto c'è la slab visto non sempre è ancora solo ragazzo facendo ragazzi vi togliete la roba sandra è sempre sopra le kraft o io lo banno lo serve lo giuro è che sta facendo l'acqua è usato come letto è il cangio gg è un bar ho messo il bar del di stone spieghiamo che serve il bar di stone ve lo spiegate e dai era spiegato vai e il bar di stone serve a fare l'ossidiana praticamente perché ci si può mettere la lava all'interno senza che vada a fuoco si bruci esatto perché la porcellana si brucia dopo che ci metto la lava dentro con un secchio ora buttiamo l'acqua sopra chi ha un secchio sander preso l'acqua metto shift shift no shift bravo ora togliela 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 giusto giusto così hai preso l'ossidiana ho preso l'ossidiana si vai quanto ne serve però ci serve una una ci serve la ender pearl vado anche l'ossidiana la ender pearl non l'abbiamo credo dobbiamo andare a uccidere andiamo a uccidere ma l'interia è piena di enderman in vero e di niente andiamo andiamo io c'ho già il locker sacriamo le botte non fate esplodere i creeper mi raccomando c'è un enderman dentro no no ecco non fate esplodere i creeper le ultime parole ma non c'è l'enderman scusatemi piatto c'è una ragnatela sono dei potenziati ferro 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 non toccatemi il ferro che mi serve ora me lo do un attimo è uscito lì ancora devo fare il ferro villa è uscito il ferro a me solo un attimo 4 4 lingone un attimo minchio come siete agitati cos'è questo e ferro sorri che il nickel della carma f rosa non messa per l'altro si scioltano chi ha messo dentro il blu il blu il blu cos'è blu cos'è il blu e il ferro che si sta creando mi sa che si è creato quest'altro blocco mo li avete messo voi non si è creato e quindi che roba strana ha capito ma c'era già il liquido di ferro perché hai messo a rimettere i lingotti madonna mia ragazzi ma ho che fare con quattro muletti ma porca trota io devo perdere tempo con voi io non ce la faccio più mi licenzio con quattro muletti che cosa c'è tra i muletti è tremendo il momento che si capotta allora di quello che ritengo ha finito no perché è finita la lava appena finita la lava per me che ce l'ho ci abbiamo un sacco se eravamo messo a fare ma non basta quanto mai basta la lava cario e dirlo messo ora sta ancora scegliendo e dirlo prima vabbè io aspetterò che si scioglie la lava che si scioglie l'imbar ok riprendi ora un colpo un colpo sì 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 dai che il ferro viene lì mi ha avvisato quando ho finito ha finito va finito ora dovrai uscire l'imbar ecco l'imbar vittorio non andanti e lui 1 ce ne sono due vero fate fate voi fate io vado a me mi serve lei a me mi serve il ferro e il ferro dentro c'è stamichi no volta non sono salito sopra i ragazzi ho fatto la carta l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto ora cosa manca io lo metto qua terra quello prendiamo manca il valore sempre che serve la ender avete fatto l'acqua e usi e non mi sembri ferro ma se ne servono 4 qua 2 2 adesso che prima un po non c'era enderman no nulla raga io andrei a dormire aspettiamo che mettiamo niente aspettiamo niente lasciamo sparo agli enderman vediamo magari ci spavano sull'isola ok 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 perfetta perfetta perché perché non c'è l'atto che vola il calcio il calcio il celato e far gelato dopo l'aereo con il lago da il celato quella fa il lago c'è il video quindi non è quello che di tre vendere ragazzi grazie ragazze mi lanciate due vetri due vetri e dentro la fornace aspetta due giornalmente ma vi rendete conto che state parlando in quattro solo uno sopra l'altro cioè sembrate veramente non lo so delle capre o ci servirà poi sto mettendo ai c'è stato di cantare mitica grazie grazie mille eccolo qua eccolo quale craftato metterlo lì a terra di fianco all'altro ci manca soltanto il vacuum ok ragazzi ci manca solamente il vacuum ma ci serve un ender pearl finché non spawnano gli enderman non possiamo fare nulla un creeper sopra lì dove 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 oh no no allora quello lì ci lo vinerà ecco enderman enderman dentro dentro sono gli ufacigli un appesivo piace una freccia sulla v sought passare ai botte tutto 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 nel salito di livello la spada dai vicano picchino e andiamo nera manifestare a vendi agonamento sfondamento va come morto will scusami ma will amore anche se non io non lo dici no ma perché è morto ma come forza quello scheletro è stato lo scheletro si è spostato will ma quanto è schifo quella perché non vai a giocare c'è uscito la nuova versione di teletubbies aggiornamento l'altro ieri mangiate ma non voglio morire io ho trovato una patata e la metto subito a coltivare qui le patate ci servono ok è però ragazzi ci servirà il mondo del live ragazzi intanto allora ci serve solamente l'ender pearl dobbiamo cercarla perché non possiamo farci niente non ci dropperemo nulla da manei e dobbiamo attendere che nasca un enderman io direi di salutarvi qui per cui nel prossimo episodio avremo sicuramente l'ender pearl finiremo la quest e faremo tanto altro ancora un bacione e un abbraccio come al solito ricordatevi il pollice in su prola da look e tutti loro è tutto ciao a tutti ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti